Senti, più o meno... Ma lo conosco, non è che non lo conosco. Una cosa veloce, dai. I punti caldi del Movimento 5 Stelle a Parma sono bilancio partecipativo e rispetto a proposito senza quorum. Adesso, più o meno, secondo te, in quanto tempo vedremo avverate queste due cose enormi? Allora, bilancio partecipativo è la cosa, dico più immediata, nel senso che è una di quelle cose che sarà poi debito partecipativo, probabilmente, però è comunque, come hanno fatto a Colorno, cioè almeno scegliere eventualmente... Di che morte morire. Più o meno nel 2013, diciamo. 2013, 2013 questo sicuramente. Più o meno marzo, aprile. No, questo non so cosa... Arrivo, adesso arrivo. Quindi era no, quello non te lo so dire, ma 2013 sicuramente. Mentre per il referendum, Bagnozzi, che ben tutti conoscete, comunque è già guardando per come si può introdurre, perché sta cercando di vedere quali altri lo hanno già fatto. Da Bolzano, da Bolzano, per esempio, l'hanno fatto. No, però questo lo sta seguendo l'Unter. Sì, magari i ragazzi, cioè il Merdemocrazia di Bolzano vi può aiutare, il Beneviter, l'Ausch, so che Carpentini è andato a Bolzano a sentire. Non lo sapevo io, ma basta citarlo, esatto, o a Peppe o a Bagnozzi. Quindi magari anche nel 2013 si potrebbe, compatibilmente con la burocraticità, insomma. Esatto, perché qui è quello. Ah, siete venuti da me! C'era solo Cattolini, c'era anche la Sessione.